6 milioni di euro per rilanciare il turismo in Toscana nel 2021 con un piano che prevede azioni di marketing come la campagna Toscana a rinascimento senza fine ma anche 7 temi di viaggio per un soggiorno toscano che va dal ritorno nei piccoli borghi, ai viaggi nelle città d'arte, alle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri oppure al mare, viaggi di benessere o di disconnessione con immersioni nella natura fino ai lunghi soggiorni in campagna dove si può lavorare in smart working. Io ritengo che il turismo sia un elemento fondamentale nella nostra ripresa economica, non sono fra coloro che dicono è arrivato il Covid e ci ha insegnato che il turismo cala troppo alla svelta, non consideriamolo per il nostro futuro. Al contrario ci credo e abbiamo messo rispetto alle previsioni che i tecnici mi avevano fatto per la promozione turistica attraverso Toscana Promozione anche 2 milioni in più. A me avevano previsto 4 milioni, ho voluto 6 milioni perché sul turismo ci dobbiamo pontare. Il piano di promozione è stato realizzato per la prima volta sulla piattaforma digitale Toscani Together in sinergia dalla Regione Toscana con le sue agenzie Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana per il digitale e dai comuni dei 28 ambiti turistici. Accompagnare il turismo che vive un momento di difficoltà rilanciando e riposizionando l'immagine della Toscana nel mondo e facendolo principalmente con la piattaforma digitale. Noi oggi possiamo davvero analizzare la grande massa di dati che la rete ci mette a disposizione e quindi anche centrare il messaggio. È un messaggio di un turismo che si rivolge più all'esperienza, alla lentezza, alla capacità di vivere anche per lunghi periodi la Toscana. Questo 2021 che ancora non prevede viaggi estracontinentali deve segnare il superamento della pandemia da Covid-19. Il ventaglio di opportunità offerto dalla Toscana per i viaggi è ampio. La metafora del supermercato serve perché questo lavoro di costruzione dell'offerta sul digitale fa emergere 52 prodotti diversi di turismo in Toscana, diffusi in tutto il territorio. E noi come Toscana Promozione Turistica, come in un supermercato, a seconda di che tipo di cena dobbiamo organizzare per la domanda turistica, sui vari mercati e per i buyer, scegliamo i prodotti più adatti.